Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il calcio di Lega Pro continua la telenovela del campo basso calcio fino ad ora tante chiacchiere ma di concreto assolutamente niente. Stiamo praticamente aggiornando ogni puntata del nostro TG Sport quelle che sono le novità in seno al nuovo campo basso calcio naturalmente quando diciamo novità lo diciamo in senso figurato perché finora di novità non ce ne sono assolutamente state si va avanti con la trattativa con Giulio Di Palma che abbiamo ospitato anche qualche volta nei nostri TG Sport ebbene lo stesso Giulio Di Palma proprio intervistato nei giorni scorsi da noi ha chiarito che non c'è stata una volta che la trattativa è stata ripresa al punto in cui era stata lasciata il giorno precedente quindi in sostanza questa variabilità delle situazioni ha finora frenato non poco questa trattativa che comunque è stata portata avanti da Capone con l'imprenditore Veneto di origine di Oratino. Insomma una lunga sequela di non so di non ricordo ieri ci eravamo messi d'accordo poi nel frattempo stanotte è arrivata una nuova considerazione per cui alla fine sono cambiate le carte in tavola. Fatto sta che tutta questa serie di circostanze finora non ha prodotto un effetto concreto. Siamo tra l'altro arrivati alla fine di maggio manca esattamente un mese perché l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro scadrà proprio il 30 giugno quindi esattamente fra un mese ebbene a 30 giorni dalla scadenza delle iscrizioni la situazione è al punto di partenza i giocatori avanzano in sostanza sei mesi di stipendio hanno messo tutti in mora la società tranne Antonio Minadeo che anche in questa circostanza ha dimostrato di essere un molisano fino al midollo spinale e quindi c'è la situazione debitoria che c'era che già conoscevamo sotto il profilo delle trattative non si è modificato nulla e quindi in definitiva la situazione resta cristallizzata. Adesso l'ultima che abbiamo riferito è stata questa proposta del presidente Capone che in sostanza voleva cedere il suo 49 o 50% ad un imprenditore italo-canadese del quale stiamo sentendo parlare questo lo dobbiamo dire per per dovere di cronaca da qualcosa come dieci anni perché in sostanza questo imprenditore canadese è compare al presidente del Boiano e quindi ci sarebbe dovuta essere un'intermediazione per mettere in contatto il sindaco di Campobasso con un imprenditore arabo sicuramente se ci pensate un po' cari amici telespettatori ne ricorderete anche voi di questa trattativa della quale si è parlato insomma non dico dieci anni ma in sostanza certamente da qualche anno e che non ha mai fruttato una soluzione concreta. Speriamo che possa accadere adesso noi siamo in realtà abbastanza scettici così come siamo scettici sul futuro del Campobasso perché in questa situazione cristallizzata le parti non si muovono e quindi resta ferma la posizione del presidente Ferruccio Capone che anche lui a noi ha dichiarato che in queste condizioni non può più andare avanti e che quindi per lui il discorso è chiuso più volte ha confessato a Gianni Bruno di essere pronto ad iscrivere il Campobasso al prossimo campionato d'eccellenza poi anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo perché ci diceva il presidente del comitato regionale della FIGC Piero Di Cristinzi che non c'è nessun diritto perché ciò avvenga ricorderete tutti quanti anche quando si iscrisse la società di Berardo nel 96 dovette addirittura comprare il titolo della SMAT Sepino per cui anche queste uscite del presidente Ferruccio Capone non trovano in realtà delle fondamenta in situazioni concrete. Comunque la situazione è cristallizzata a 30 giorni dalla scadenza delle iscrizioni noi siamo in realtà molto scettici perché finora lo abbiamo detto tante chiacchiere ma veramente di arrosto tanto fumo ma di arrosto non ce n'è stato per niente non poco arrosto qui di arrosto non ce n'è proprio stato peccato perché la squadra sarebbe stata da confermare in blocco perché ha disputato un girone di ritorno davvero entusiasmante guadagnando una salvezza sul campo lo ribadiamo sulla quale nessuno avrebbe scommesso 50 centesimi a Natale e quindi in sostanza si poteva veramente gettare un discorso anche per un campionato da disputare fra le prime 8-9 squadre in modo da guadagnare al termine della prossima stagione agonistica la C unica una C unica per la quale questo lo ha detto il presidente Magalli sono già pronti molti milioni di euro per le squadre che vi parteciperanno calcio di serie di socio sostenitore per la stagione sportiva 2013-2014 l'iniziativa promossa dal termoli che sarà presentata domani pomeriggio a partire dalle 18 e 30 il presidente ricola cesare sta già progettando il prossimo campionato e vuole coinvolgere nel progetto anche la cittadinanza dai serni aggiungono solo buone notizie dopo la trasferta di Gianni Monfreda a Capua questa volta tocca ai fratelli Pagano fare visita agli isernini molto probabilmente domani calcio giovanile la scuola calcio polisportiva olimpia agnonese domenica ospiterà al civitelle il secondo appuntamento del trittico dei tornei nazionali domenica si svolgerà il quarto torneo nazionale agnone latene del sannio in campo sei squadre virtus vasto sporting roma difesa grande termoli renato curi angolana monte cassino e naturalmente la società organizzatrice del presidente fernando sicca la manifestazione rivolta alla categoria allievi 96 e 97 nuoto tante le attività in acqua offerte dal centro m2 di campo di pietra che spaziano dalle nuove attività di fitness in acqua fino ai classici corsi di nuoto che coprono tutte le fasce di età luca barsotti è responsabile del settore acqua luca barsotti responsabile del settore acqua un settore difficile però dove la fanno da padrone diciamo i bambini ma difficile perché è difficile così tanto bello quando si lavora con passione le cose vengono naturali per cui non è un problema sicuramente è uno sport per tutti stare in acqua voglio dire si può stare a 90 anni a sei mesi sicuramente una delle cose che più assapora fa star bene in acqua è proprio l'aspetto ludico per cui i ragazzi sono più portati a questo poi ci si avvicina all'estate voglio dire e ancora siamo ancora più motivati a viverla niente io spero tanto di dare al loro motivo di divertimento con l'acqua imparare qualcosa formarsi nel miglior modo possibile stare bene insieme ecco i bambini già da da piccoli riescono a vivere l'aspetto ludico come dicevi tu o già si inizia a sentire l'area di competizione guarda anche la competizione è un aspetto ludico per cui insomma non si finisce mai di giocare il gioco è una cosa importantissima l'uomo è l'essere vivente che gioca più di ogni altro e attraverso il gioco impara sicuramente per quanto riguarda i bambini l'aspetto ludico diventa la formula vincente per sentirsi attori principali protagonisti di un evento per cui questo deve essere il sistema di insegnamento il modo di comunicare con loro e farli vivere ogni momento della loro vita. Quanto è importante il ruolo dell'istruttore in questo? tantissimo tantissimo bisogna essere molto entusiasti bisogna essere sempre pronti a mettersi in discussione non sempre ogni tipo di soluzione ogni tipo di meccanismo magari provato e riprovato riesce per cui bisogna essere anche abbastanza elastici insomma è un lavoro molto difficile sei educatore sei istruttore addestratore sei tanto sei un punto di riferimento. E in fase di allestimento il diciannovesimo torneo Madonna del Carmine che si svolgerà a Riccia a partire dal 16 giugno le iscrizioni verranno chiuse l'11 giugno la squadra prima classificata riceverà un premio di 1500 euro. Il quadrangolare a scopo benefico un pallone per amico quinto memorial Flavio Bruni si svolgerà venerdì 7 giugno all'antistadio Selva Piana scenderanno in campo quattro formazioni Flavios Friends, Meteo Molise, Amici della Polizia e una rappresentativa di Telemolise. Il biglietto d'ingresso è di 2 euro e l'incasso sarà devoluto all'istituto Mater Orfanorum di Cerce Maggiore. Il quadrangolare inizierà alle 16.30. Domenica match di ritorno in casa del Torrecuso per il Fornelli in Palio. L'approdo alla fase successiva dei playoff per la squadra campana. ai nostri microfoni Conti. Giovanni Conti, ex giocatore del Venafro, ti ritrovi a giocare in Molise, è bello tornare? Avresti preferito tornare con un risultato diverso? Sì, hai detto bene, ci abbiamo provato fino alla fine a vincere la partita, sono stati anche un po' sfortunati e speriamo di rifarci in casa. Il campo come l'hai trovato? Il campo sembrava in perfette condizioni però alla fine la palla non siamo riusciti a giocare bene e esprimere il nostro gioco. Che squadra è stata questa del Fornelli che avete affrontato secondo te? Una squadra attrezzata con buoni giocatori, una buona squadra. Avete più voglia voi o loro di passare questo turno? Penso noi perché siamo stati anche un po' sfortunati in campionato, ci hanno fatto prima festeggiare e poi hanno dato i punti al Vico. Sicuramente ce la metteremo tutte in casa per vincere e andare avanti. Ururi, paese di nascita di Michele Scorrano e gli amici dell'ex capitano dei Rosso Blu sono pronti a scendere in campo il 9 giugno in occasione del secondo Memorial Michele Scorrano la Figi Cimolise per il pomeriggio di domenica ha organizzato due gare, la prima vedrà due formazioni, una guidata da Vincenzo Cosco e l'altra da Fulvio D'Adderio, formate da calciatori molisani che miglietano in Lega Pro e in Serie D. Per la seconda partita invece in campo gli amici di Scorrano con tanti ex e giocatori Rosso Blu anche di Serie B. Ricordiamo che la presentazione di questo evento ci sarà lunedì pomeriggio a partire dalle ore 17 presso la sala consigliare della Figi Cimolise in via Campania. Atletica non poteva mancare allo start della Marcia dei Misteri organizzata dalla Polisportiva Molise anche la società dell'Atletica Molise Amatori che intanto sta organizzando la Tappino Altilia. Lo spirito è quello di passare una giornata all'aria aperta, speriamo che ce ne siano sempre di più di queste manifestazioni perché vi dico che bisogna riappropriarsi dei paesi e delle città dove si vive, non lasciarle sempre in mano ai mezzi a quattro ruote, ogni tanto viverle di passo e godersi, però godersi gli angoli della nostra città che non sono secondi a nessuno. Franco, tu sei un golitore esperto, possiamo dire, qual è il tuo segreto per mantenerti così in forma a Smaia? L'importante è partecipare, io non so se avete letto la mia maglietta rossa, dietro c'è una scritta, a me diciamo che ho rappiesto, sono arrivato ultimo ma non conta questo, l'importante è avere lo spirito di partecipazione e di aggregazione e che devo dire, io in tanti anni partecipo sempre a tutte le manifestazioni e sono felice quando si riesce a portare tanta gente in piazza attraverso lo sport, lei come pensava noi organizziamo la tappina altile, quest'anno sarà la trentesima edizione, i tempi non sono belli per tutti, però la forza e il coraggio che ci dà lo sport ci insegna ad andare sempre avanti, quindi andremo avanti sempre con la forza di sembra. Domenica l'area del Terminal Bus di Isernia ospiterà nove federazioni sportive per la giornata nazionale dello sport promossa dalla delegazione provinciale del CONI di Isernia, il tutto in tre ore. Promozione nonostante la retrocessione, questo è stato un anno di crescita per il nuovo Vinchiaturo guidato da mister Fiorucci. Siamo con Massimiliano Venditti attaccante del Vinchiaturo, Massimiliano il tuo gol non è bastato, però per poco avete sfruttato l'impresa che sarebbe stata storica. Primo tempo abbiamo detto ragazzi stiamo calmi, sono loro che hanno da perdere, possiamo vincerla, però controvento il secondo tempo, abbiamo creato poche nulla e alla fine il risultato è stato di 3 a 1, pari a quello dell'andata. I punti, la differenza classifica credo che sia giusta, quindi sia giusto che loro si siano salvati. Il ramore che infatti è più grande per la partita dell'andata e non per questo. Bravissimo, ha detto benissimo, all'andata lo ripeto, sette minuti dalla fine, 1 a 1 potevamo conservare quel risultato. Ci siamo tutti sbilanciati proprio con la cosa che dobbiamo vincere la gara perché eravamo sicuri di vincerla, però poi in contropiede loro ci hanno castigato due occasioni, due gol e quando sballi paghi. Facendo un po' il secondo di tutto il campionato vostro, abbiamo eseguito molto le vostre partite, giocate molto bene in avanti con Tena, Ardacchione, create molto però dietro avete subito molti molti gol. Sì, infatti se non sballi abbiamo subito circa 70 gol stagionali, davanti diciamo che noi i gol quasi ogni partita lo facciamo, non è quello il problema, il problema come hai detto tu che subiamo molto, infatti se vediamo le statistiche, a quanto mi sembra come attacco, siamo a metà nella norma, il problema è se sono stati i gol subiti, se si dovesse fare un ripescaggio, se ricreare una squadra a vinchiaturo penso che si dovrebbe ripartire proprio dalla parte difensiva. Soddisfatto per la salvezza conquistata con l'Ermestoro, Antonio Mancini. Antonio Mancini è arrivato a questa salvezza, una salvezza meritata per quello che ha detto il campo e la stagione regolare? Sì, è detto più che bene, meritata alla fine della regular season perché con 38 punti sfido altre squadre a non salvarsi, a non uscire fuori dai play-out. Noi purtroppo li abbiamo fatti, li abbiamo affrontati forse non al meglio. È arrivata questa sconfitta, fortunatamente non ci è costata più di tanto, però magari ci servirà anche in futuro per crescere, insomma perché bisogna sempre fare attenzione, non bisogna dare mai nulla per scontato. Sei arrivato a Toro a dicembre, penso che sia stata per te una bella esperienza, soprattutto a livello umano. Una esperienza bellissima perché il gruppo è fantastico, la società è incredibile, il tifo come ben sai è calorosissimo, quindi ti seguono ovunque, sia in casa che in trasferta, quindi per me è stata un'esperienza più che positiva e sono contento di aver dato il mio contributo almeno per la permanenza nella categoria. Calcio giovanile verrà presentata domani pomeriggio alle 18.30 alla 21esima edizione del trofeo di Corpus Domini in memoria all'Antonio Rauso, trofeo Antonello Toti, organizzato dalla Scuola Calcio Acli di Campobasso. All'Olympic Isernia, la Molise Cup giovanissimi, i ragazzi guidati da Minervini hanno battuto in finale la formazione del Mirabello guidata da Mister Piccirillo. I gialloblu sono passati in vantaggio al decimo della ripresa con Marra, il definitivo 2-1 in favore dell'Olympic Isernia è stato sancito dalle reti di Di Marco al 25esimo e di Cifelli sul rigore al 33esimo. Prima categoria è riuscito nell'intento di conquistare il campionato di promozioni, il Real Termoli. Ai nostri microfoni il Presidente. Carmine D'Angelo ti vediamo contento alla fine di questo Memorial, Sandro Del Rosso perché? Perché ha vinto lo sport? Indubbiamente ed è quello che noi auspichiamo, aver perso sul campo però oggi ha vinto lo sport, una giornata memorabile, una giornata in cui ha ricordato questo triangolare e questo è il sesto anno, mi fa veramente piacere, fa veramente onore e fa onore ritrovare ragazzi dove ci siamo confrontati già negli anni passati. Una giornata di sport memorabile che sia sempre così e che sia sempre così con il cuore. Però dai ci tenevi affinché il tuo Real Termoli fosse la regina della prima categoria? Beh certo, chi è quello che vuole uscire sconvitti? Noi siamo usciti sconvitti però abbiamo gioito con il cuore perché ci siamo immedesimati in questa realtà e dobbiamo rafforzarla sempre di più veramente con cuore, con sagace e con cordialità in tutto. E il programma per il campionato di promozione? Il programma è troppo presto per chiedertelo? No, calcisticamente non è mai presto perché quando appena si finisce quello di prima categoria che abbiamo onorato con la vittoria si pensa sempre a un prossimo campionato quello che dovremmo affrontare. Sempre con molta cordialità e con molta gioia e con molta convinzione. Le Acli Torre Magliano un po' a sorpresa hanno staccato il pass per la finale playoff ai danni del Divinus San Giacomo. Luigi Marina, allenatore dell'Acli Torre Magliano, prestazione incredibile, ottima la vostra, avete sofferto nel primo tempo, nella ripresa hai cambiato qualcosa, hai letto benissimo il confronto, le tue modifiche in campo hanno portato all'Acli Torre Magliano ad aggiudicarsi questo confronto in rimonta, avete giocato una buona gara, una partita comunque correttissima in campo e aperta a ogni risultato. Certo, sicuramente, io ringrazio veramente gli avversari che sono stati eccezionali in tutti gli incontri che abbiamo fatto, persone veramente molto educate e serie. La partita è stato il prologo di tutto quello che abbiamo fatto, penso che sia la giusta ricompensa a tutto il lavoro fatto dai ragazzi. Un campionato che voi avete rincorso per tutta la stagione, poi c'è stata quella gara che avete dovuto ripetere, siete arrivati a questa finale però carichi a mille per cercare proprio di raggiungere la finalissima, ci siete riusciti? Sì, meno male che siamo riusciti, però ripeto, al di là della tattica, al di là di tutte queste cose, diciamo, c'è il cuore. La cosa più bella è che loro ci mettono cuore ragazzi, è bellissimo. Eravate supportati anche da un ottimo pubblico, quelli che vi hanno dato praticamente la spinta in più. Sì, sicuramente il pubblico c'è sempre con noi e fortunatamente siamo tutti del circondario, tutti di Santa Croce, dei paesi limitrofi, quindi siamo felicissimi di questo. Silvio Campofredano, una sconfitta da buttare giù con l'amaro, un amaro difficile da digerire, però comunque dovete accettare il verdetto del campo, questa sconfitta, eravate a favore di campo, ve la siete giocati a viso aperto, primo tempo a vostro favore, poi nel secondo tempo loro hanno raggiunto il pareggio e poi diciamo che alla fine hanno trovato il gol della vittoria. Sì, l'amaro in bocca, l'amaro in bocca per quello che hai detto tu, perché giocavamo in casa, avevamo la possibilità di giocare per due risultati sul tre, però non si sa come vanno queste partite. L'abbiamo gestita male dopo il vantaggio, dopo il vantaggio l'abbiamo gestita male, forse ci siamo seduti un po' sugli allori, abbiamo pensato che il più era fatto, invece non è così, non è così perché questa è una buona squadra, il Torremagliano, con giocatori importanti, forti di una dirigenza, di un pubblico, loro ci hanno creduto, noi siamo stati poco attenti e alla fine hanno meritato. La gara tra Acli Campobasso e Frentania sarà trasmessa sul canale 112 di Telemolise Sport, sia alle 16.30 che alle 20.30. Per la seconda categoria il Chiauci ha chiuso il campionato con un ottimo quinto posto che gli ha permesso di disputare anche i play-off. Il club è già proiettato la prossima stagione, infatti ha indetto dei provini per iniziare a selezionare dei ragazzi per il prossimo campionato. Per avere altre informazioni si può consultare il sito internet www.polisportivachiauci.it Bene, era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio!